Prima vittoria del 2020 per lo Sporting Ponte Cagnano, che conferma il quarto posto in classifica e tiene a debita distanza le concorrenti ai play-off Giffoni, Sei Casale e San Marsano, che rallentano nell'ultimo turno. A capaccio pestumo contro il fanalino di coda Audax Herajon, la squadra allenata da Raffaele Herra torna al successo, trovando i tre punti nel secondo tempo. La gara condizionata dalle raffiche di vento si sblocca al sedicesimo della ripresa con un gol da Cineteca di Anastasio, che segna direttamente la calcio d'angolo con palla, che si insacca all'incrocio dei pali. Per chiudere i giochi però bisogna attendere il quarantesimo con Di Giacomo, che appoggia in rete l'ottimo assist di Dorilia. Per l'Hera John sono due occasioni pericolose, nel primo tempo con Procida troppo poco per rimpensierire il più cinico Sporting che ricomincia la corsa per non perdere terreno dalle battistrada.